Lascia like e iscriviti al canale e non te ne vendirai. Ciao ragazzi sono Ninja Hyper e ho vinto la sfida del PSG! La mia seconda sfida che vinco è perché ho anche vinto la Brawloween rosa tempo fa. Beh si ragazzi ho solamente fatto una miserabile sconfitta tanto per cambiare. Non ho speso niente di gemme, ho fatto solamente una sconfitta. Perché dico non ho speso niente di gemme? Perché se perdevi avevi la chance di spendere 30 gemme ti davano altre possibilità di vincere. Ma io non ho speso niente, che bello. Non hanno dato solamente punti stellari, hanno dato anche i gettoni, ci sta. Un po' di cambiamento, sfida superata, adesso vi faccio vedere alcune cose. La sfida l'ho fatta con la lente e ho trovato questi due. Ibra28, sì, che ho cercato di prendere quelli forti ragazzi, perché quelli nabiglio espulsi. E Mr.Shibert, se si nomina così, credo di sì. Come account io sono un po' più forte io, perché ho più rank 25, ho guardato e ho un pochino di coppia in più per record. Anche in altri soliti account. In questa mappa abbiamo messo Sandy, Jesse, Nita. In questa qui Tara Colonnello. E questa qui pure Tara Colonnello. Beh, dei consigli, se non l'avete ancora giocato e volete vincere. Se è possibile, io vi consiglio prendere quelli sopra i 27k, e che devono avere almeno 4 rank 25. Perché se è così, avete più possibilità di vincere. Se non è così, beh, potete anche vincere, ma la possibilità è un pochino di meno. Infatti io ho fatto così, poi io in realtà sinceramente 4 rank 25 per me sono anche un po' pochi. Poi non è che vi sto dicendo, voi siete voi d'ambi, non me lo sto dicendo così. Vi sto dicendo, trovate con la lente quelli che hanno queste cifre qua, capito? Abbiamo perso in questa mappa, perché c'era quel dynamite che dava un fastidio incredibilmente, che si mettevano i muri. Io, se potevo parlare con loro, neanche se sono italiani, li ho cercati con la lente, gli avrei detto, spacca quel muro così dynamite non fa più danno. Ma non l'ha fatto, e vabbè, una sconfitta, ma almeno l'abbiamo vinta. Ma comunque, state tranquilli, se non ve ne avete vinto la sfida, state tranquillissimi. Avete due chance, o vi acquistate le possibilità per le sconfitte, oppure comprate 150 gemme e ve la comprate. Se non vi piace questa skin, c'è l'altra skin identica, ma solamente che è rossa. Ora, un po' più di gemme. Cioè, io spero che avete vinto la sfida e l'avete vota gratis. Spero che facendo così vincerete. E detto questo, ciao!